Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qua su un vlog, perché ho voluto fare questo vlog? perché sono abbastanza, come dire, stupita diciamo, perché insomma, meno di una settimana fa siamo tranquillamente a tipo 152 iscritti e cose del genere mi ritrovo ieri sera che eravamo a 197 iscritti, ho detto tipo, cioè con due giorni, non sto scherzando, con due giorni siamo arrivati quasi, cioè ieri sera almeno eravamo arrivati a 197 iscritti e il giorno dopo, cioè il giorno dopo, oggi, siamo andati a vedere, cioè dopo scuola che sono tornata verso le 2, no? cioè, raga, ma 216 iscritti, ho detto tipo, 8, infatti adesso che è tipo la sera, insomma, sono tipo le 8, siamo a 227 iscritti stiamo crescendo veramente, veramente, proprio velocissimi, infatti ragazzi ancora non ho avuto il tempo di fare lo speciale 150 iscritti che presto arriverà, però devo anche pensare a quello dei 200, e se continuiamo così per quello dei 250 cioè veramente, sono veramente stupida perché stiamo crescendo tantissimo e se, insomma, mi state scrivendo significa che quello che faccio vi piace e, insomma, vedo anche che commentate molto e sia una cosa da niente, ma comunque mettere un mi piace e commentare per me è molto in senso significa che ci siete, significa che vi piace quello che faccio e soprattutto, ovviamente, ci possono essere commenti commenti che non possono molto piacere e commenti che invece, sì, ma comunque, credo che tutti siano abbastanza costruttivi e ovviamente devo ringraziare anche mio padre perché mi aiuta sempre nei video, insomma, mi aiuta, mi incoraggia insomma, è lui, se no, veramente, non stare qui con 227 iscritti, devo essere sincera e ovviamente ha tutto l'impegno che metto quando faccio i video e sono molto felice che, insomma, siamo arrivati a 200 iscritti e abbiamo superati, anzi sono molto felice e non so che dire perché, insomma, devo preparare tutto ciò perché cioè, mi avete lasciato proprio su, non lo so, proprio così, cioè, tipo, è tutta convinta ok, vabbè, fra qualche giorno fanno speciale 150 iscritti, stiamo molto calmi, c'è, invece poi, tipo, il giorno dopo siamo a 200 iscritti e dico, tipo, come, come è possibile e vabbè invece poi, ragazzi, volevo dire anche un'altra cosa che, anche questa, insomma, significa che stiamo crescendo e che vi faccio le mie video ossia, ho visto che su The Sims 4 siamo arrivati, tipo, a 40 mi piace sì, di solito ci sono 20 mi piace, 30 mi piace, comunque, sui video, 15, insomma, quello che è però, insomma, questa volta vi siete veramente superati, cioè, 40 mi piace, per carità una cosa bellissima, cioè, nel senso, significa che cioè, quei video, quei video, insomma, vi sono veramente piaciuti magari alcuni, alcuni video non vi piacciono quindi magari ci potrebbero essere meno mi piace oppure magari commentate un po', tipo, dicendo non è che mi è piaciuto molto e cose del genere e questo lo posso capire, perché magari tutti i giochi, soprattutto, non possono piacere, ovviamente, a tutti però sembra che The Sims 4 vi piaccia molto quindi credo che farò più video a settimana di The Sims 4 visto che mi piacciono molto ma non dobbiamo, comunque, sottovalutare le altre serie ovviamente, perché ci tengo anche a fare altre serie nel senso, magari, alla maggior parte di voi può piacere The Sims 4 ma magari a quella piccola percentuale che non piace insomma, ovviamente, dobbiamo accontentare tutti e sono molto felice, perché comunque stiamo crescendo come comunità e mi piace, insomma, che vi piaccia, diciamo, trascorrere il tempo insieme a me perché poi alla fine, comunque, è ovvio insomma, voi dedicate quei 10-20 minuti della vostra giornata a guardare i miei video e sono veramente molto felice non so che altro dire, quindi grazie grazie, ovviamente, ripeto, presto farò farò gli speciali 150 iscritti e 200 iscritti chissà, chissà se pensate a qualcosina cosa potrei fare ok beh ragazzi, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate un mi piace, commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti grazie 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 grazie